buongiorno sono giorgio consulente renault di gruppo carmeli oggi ti presento renault megan e tec plug in hybrid con un motore capace di erogare fino a 160 cavalli di potenza focalizzandosi sul recupero dell'energia megan e tec è dotato di una batteria che vanta una capacità di 9,8 kilowatt con un peso di 105 kg la nuova megan ha un'autonomia che le consente di circolare in modalità full electric fino a 135 km orari per 50 km in ciclo misto e fino a 65 km in ciclo urbano a livello estetico la vettura ha di dettagli stilistici tipici della versione ibrida il profilo blu sui coprimozzi dei cerchi e i beige i tec plug in hybrid sul portellone posteriore e sul montante all'interno della renault megan hybrid plug in troviamo la leva del cambio con la scritta i tec il rivestimento specifico per il cruscotto digitale e il pulsante v che consente di forzare la modalità elettrica sulla vettura presentata troviamo retrocamera compatibilità con apple carplay android auto freno di stazionamento elettrico fari full led anteriori e posteriori cerchi in lega da 16 e frenata d'emergenza attiva con riconoscimento pedoni se ti è piaciuto il video lascia un commento qui sotto o chiama cello 0 30 77 24 0 11 i nostri consulenti saranno a tua disposizione se ti è piaciuto il video